Siamo partiti fine settembre con tanta voglia perché soprattutto i ragazzi, i genitori dei ragazzi, anche noi maestri, avevamo voglia di comunque rivedere, di riattivare il tutto, quello che avevamo praticamente lasciato all'improvviso, così a marzo. A fine settembre invece abbiamo avuto un riscontro molto alto rispetto ai numeri dell'anno scorso, abbiamo conferma il 90% degli iscritti della passata stagione e inserimento chiaramente di nuovi gruppi di avviamento di tutte le fasce di età. Considerata la situazione il tennis resta una delle discipline più sicure da praticare, questo è emerso anche da uno studio commissionato dal CONI ed effettuato dal Politecnico di Torino, dove su 387 discipline, che fanno riferimento ovviamente al CONI, il tennis è risultata la disciplina più sicura con un indice di rischio pari allo 0,1% su una scala di 4, quindi praticamente un rischio inesistente e questo ovviamente grazie alle caratteristiche specifiche della disciplina, quindi è uno sport individuale, è uno sport dove vi è un distanziamento tra i due partecipanti notevole, dove appunto non vi è assolutamente nessun tipo di contatto fisico, quindi si può giocare in estrema sicurezza. Gli atleti devono necessariamente ovviamente rispettare determinate regole come quella di entrare nella struttura con la mascherina, quindi muoversi all'interno della struttura con la mascherina, disinfettarsi prima e dopo l'ora di gioco o comunque la lezione per i ragazzi, sterilizzare i materiali didattici, è obbligatorio misurarsi la temperatura corporea, tutte piccole regole, però regole ovviamente fondamentali per permettere a tutti e soprattutto ai ragazzi della scuola tennis di partecipare in maniera tranquilla alle loro lezioni.